Un minno al lavoro e lo voglio dedicare a Mignano, perché stasera, si dell'amore vero. Ho il coraggio che te gli dichiama ancora, da te cerchi una mano per parlare. Sette numeri ha mai scordato, fatti già un milione voto, che stasera ti dice una casa o chi. Un cazzo ogni volta che diceva, non si dispone di s'arraggio per l'angolo, risponditi non so che che gli all'amore. Casi un brughetto ancora, non ha detto che darà a sé. E poi con queste cose non è bella a te. Posso sostenermi tutti? Come fa? Come fa? Come fa? Come fa? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti